L'Empoli vince a Torino, 1 a 0 fa un enorme passo in avanti verso la salvezza se non si è già salvato, non ho ancora guardato la classifica. Non sono riuscito a guardare nulla, sono riuscito soltanto a guardare Padelli. Padelli! Ma chi è quello che in Torino Roma volava da un palo all'altro, l'ha prese tutte sotto al 7, angoli bassi, un'uscita, Batman Padelli? Per chi non lo avesse visto, allora questo riceve, lui sta praticamente spalla alla porta vicino al palo di sinistra, riceve un retropassaggio tranquillo ma proprio blando che è da controllare e ribattere o rinviare dall'altra parte o spazzare via, insomma. Padelli che ha fatto? De sinistro? Se l'hai buttata in porta? No, vabbè, no, no io non ce sto, allora io credo che il calcio sia marcio perché allora o tu Padelli sei inabile, cioè hai problemi motori, quindi è giusto che tu, non dico te riposi, te ritiri, perché se fai una cosa del genere vuol dire che non sei coordinato, non va bene, insomma, devi tornare a scuola carcio, non lo so, insomma. Oppure è quell'altra cosa, io ma non vorrei accusare nessuno, però sai già in passato è successo, c'è stata la gente un po' picchettara e tu non puoi fare una cosa del genere, no è proprio inammissibile, non puoi giocare a pallone, io ho visto pure fare delle papere clamorose, io ricordo qui a Roma ci abbiamo avuto coi coicea, un esperto dei papere insomma, col Cagliari se l'hai buttata dentro ma con le mani, ma qui era una cosa semplice, non era manco pressato, tu dovevi fermare la palla, rinviarla tranquillamente e te la sei buttata in porta. No, vabbè, no, basta, andate papidi.